Nell'ambito del progetto nazionale Scuole al Centro sono state premiate dal MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche vari istituti scolastici di Altamura. 4 Novembre, Roncalli, De Nora, Garibaldi, Federico II, Cagnazzi, Nervi Galilei, Ottavio Serena Pacelli, San Giovanni Bosco Fiore, Don Milani, Padre Pio. Questa iniziativa è nata con l'obiettivo di favorire il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole e l'inclusione sociale, al fine di evitare la dispersione scolastica. Più sport, musica, laboratori di lingue, teatro, innovazione digitale, per un totale di oltre un milione di ore di attività aggiuntive da svolgere in orario extrascolastico, di pomeriggio o nei mesi estivi. Sarebbero questi, secondo il MIUR, le innovazioni che l'adozione di questo bando porterà. La scuola al centro è il primo bando PON a carattere nazionale, poiché i precedenti sono sempre stati riservati alle regioni del sud. Sono stati proposti progetti per 33.530 moduli didattici per oltre un milione di ore di attività aggiuntive, di cui 277.980 ore di sport finanziate con 55,5 milioni. Oltre 700.000 studentesse e studenti saranno coinvolti e circa 33.000 genitori. Sono state finanziate 4.633 scuole e stanziati oltre 187 milioni di euro. Il 10% delle scuole finanziate ha presentato progetti per i quali, dalle scuole del primo ciclo, verranno svolti i laboratori sul tema della cittadinanza europea e di potenziamento di sport e lingue straniere. Le scuole del secondo ciclo invece realizzeranno progetti legati a sport, orientamento e potenziamento delle lingue. In Puglia, 569 scuole riceveranno oltre 23 milioni di euro. La Campania è invece la regione con un numero maggiore di scuole finanziate. Afferma l'onorevole Liliana Ventricelli. La Puglia, con 569 scuole che riceveranno oltre 23 milioni di euro, si classifica al terzo posto per numero di istituti ammessi. Nella sola provincia di Bari, ben 172 scuole beneficeranno dei finanziamenti per 7 milioni di euro. Si tratta di un'iniziativa molto innovativa con un'altissima adesione da parte degli istituti di ogni ordine e grado. Sono stati privilegiati gli ambiti del potenziamento delle competenze di base, dell'educazione motoria e dello sport, a cui si aggiungono teatro, arte, scrittura creativa, potenziamento della lingua straniera, innovazione didattica e digitale, musica. Anche nel territorio della Murgia, Altamura, Gravina, Santeramo, Cassano, sono stati finanziati numerosi progetti che daranno a studenti e studentesse ulteriori stimoli per fare sport e apprendere.